È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, beri almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500. Grazie a tutti.